Questo video riguarda i migliori tre ventilatori a torre. Il vincitore della qualità è il Princess Ventilatore. Ventilatore di alta qualità, crea un flusso d'aria rinfrescante in salotto, ufficio o camera da letto. Facile da controllare tramite smartphone o comandi vocali tramite l'applicazione Omedizard Climate, Alexa o Google Home, per un comfort estremo. Grazie al suo design moderno e compatto, il ventilatore si integra perfettamente con arredamenti moderni. Goditi le tre impostazioni di flusso d'aria per creare una sensazione di brezza rinfrescante sulla spiaggia o utilizzare la regolazione speciale per dormire al fresco durante la notte. Il ventilatore si spegne automaticamente impostando orari nell'applicazione o utilizzando il timer, potrete impostare dei cicli personalizzati e tenere sempre sotto controllo il vostro ventilatore, senza mai dimenticarlo acceso. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Rowenta V6670. Goditi l'ottima combinazione di eleganza, convenienza ed elevate prestazioni con il ventilatore a colonna digitale Eole Infinite. Eole Infinite è dotato di una tecnologia di oscillazione a 180 gradi, che assicura una copertura del flusso d'aria extra largi in tutta la stanza. Velocità dell'aria più potente rispetto alla serie di ventilatori a torre Eole Crystal della precedente generazione, per un'elevata sensazione di fresco. Con tre diverse velocità d'aria per regolare l'effetto di freschezza in base alle proprie necessità. Un design che consente di impugnarlo e di riporlo facilmente. Puoi controllare tutte le funzioni del ventilatore a distanza e riporre facilmente il telecomando sull'impugnatura del ventilatore, per non perderlo mai. Regolazione automatica della velocità in base alla temperatura dell'ambiente. Timer digitale fino a 8 ore per un'elevata comodità. L'ampia base e il sistema oscillante progettato all'interno della parte fissa della torre assicurano un'ottima stabilità per un'elevata sicurezza. Il vincitore del premio è il Blutz Ventilatore. Il ventilatore a torre offre tre modalità e tre velocità, in totale nove opzioni per soddisfare le diverse esigenze, in modo da poter facilmente personalizzare il flusso d'aria e ottenere molteplici effetti di raffreddamento. Il ventilatore oscillante è dotato di un'ampia uscita d'aria, un'oscillazione di 75 gradi e una velocità del vento di 20 piedi s che aiuta a rinfrescare l'ambiente e distribuisce il flusso d'aria ovunque sia necessario. Il ventilatore a torre con telecomando consente di accendere e spegnere l'unità, selezionare le modalità e la velocità. La ventola di raffreddamento silenziosa è dotata di un motore ultrasilenzioso, di una retroilluminazione a spegnimento automatico di 30S e di un timer programmabile di 12H. La griglia minuscola, il design senza pale e la funzione di blocco per bambini della ventola di raffreddamento eliminano il rischio che i bambini incustoditi possano infilare le dita. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.